Ah nonno, ma perché vanno a dar dottore via Mertassì? Per tenere sotto mano così non mi scappi. Dove andiamo? Via Verga 23. Ah nonno, guarda qui i cani che stanno a fa' Vedi, quel cane che sta sopra in groppa si è fatto male ai zampetti. Ah sì? Allora l'amico l'ha preso così per farlo camminare. Ah no, è proprio vero eh, non può far piacere un amico che ti si è inchiappetta subito. Ah no, no, che stanno a fa' quelle signore lì? Quei signore stanno a aspettare i mariti che escono dall'ufficio. Ah non è, e digli la verità, stavamo nel 2000, quelle sono mignotte che aspettano sì il marito, ma quelle dell'altra. Ah no, ma le mignotte possono avere i figli? Eh come no, eh, se non come nascano i tassinari. Ah oh, ma che c'è lì sul cofano? Mi sembra un mirino, ma che è una mitagliatrice? E mi pare, con i tempi che corrono se non si è armato. Ma perché? Che vuoi ammazzare? I pedoni stronzi. Ah oh, eh, così di stronzi ci rimangono soli i tassinari. Ah oh, ma tu non ce la vuoi tassinare? No no, non sta a scherzà. Ah oh, guarda quello che ci frega di striccio, lo beccamo. Dai, beccamolo, 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 becamolo, beccamolo. Oh, cato. Eccone l'altro. Dai, via, 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 via. Sì, eccola, dai, via, 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 via. È più da una mignotta. Ah no, io ho detto via da una mignotta. E sapere che l'ho riconosciuto. Dai, vai, via, tu nonno. No, no, non scherzi. Vai, via, 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 via. Via, 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 via. Ma che dices? Eh, colla! Ah no, via via, no! Se non ero io che aprivo sportello, col cavolo copiavi questo! Buon, bravo, bravo! Eri Zino! Lasciami a manzare! Mettiamo! Eri Zino, mi faccia un pezzo! Disgraziato! Grazie a tutti.